Dal 6 dicembre è operativa la nuova filiale della BCC del Metauro in via Circonvalazione, nel nuovo centro commerciale Exco a Mercatale di Sasso Corvara Auditore. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidente Bruno Fiorelli, del consigliere di zona della banca Loredana Dominici, del direttore della filiale Francesca Tiberi e del primo cittadino Daniele Grossi. La banca di credito cooperativo del Metauro nasce nel 1911 ad Orciano di Pesaro. Dal 2019 fa parte, insieme ad altre 136 BCC del gruppo bancario cooperativo ICREA, il quarto gruppo bancario italiano. Una banca solida e patrimonializzata che è cresciuta negli anni e che ad oggi con questo nuovo sportello conta 14 filiali che servono 41 comuni per oltre 24.000 clienti. Si aggiunge una figlia alla famiglia della BCC del Metauro con la filiale di Mercatale a Sasso Corvara Auditore, presidente. Sì, ed è una gran bella cosa. In fin dei conti penso che la zona lo meriti. Quindi la banca di credito cooperativo, sempre attenta ai problemi delle comunità, ha ritenuto opportuno di aprire questa nuova filiale. Quali saranno gli obiettivi da perseguire qua in questa zona con questa nuova filiale? Ma direi che sono quelli tipici del credito cooperativo. In fin dei conti si tratta di essere vicini alla comunità, alle persone, di soddisfare i loro bisogni e di cercare di essere sempre attenti a quelli che sono i problemi. Quindi anche un'attività di consulenza riteniamo essere molto importante. Una strata collaborazione con il territorio. La banca diventa parte integrante di questo in tutti i sensi. È dal momento che la raccolta resta nel territorio. Almeno il 95% della raccolta di una banca di credito cooperativo deve essere reinvestita nel suo territorio di competenza. Quindi non raccogliamo per destinare ad altri obiettivi che non siano quelli di far crescere la comunità e l'ambiente in cui noi operiamo. Le previsioni per il 2021 confermano una chiusura con un utile stimato di oltre 2 milioni di euro e un coefficiente di solidità patrimoniale superiore al 20%. La nuova filiale di Mercatale si presenta come una banca sempre aperta, dotata di una cassa Self H24, operativa quindi 7 giorni su 7, con gestori altamente qualificati, in grado di fornire consulenza in ambito finanziario, assicurativo e creditizio nel segmento corporate e private. Sì, noi siamo già a Pian di Meleto dal 2005, una collaborazione che ormai dura da tempo e come dice lo slogan che è passato questi giorni, ci conosciamo da sempre, però da oggi ancora più vicini. Quindi abbiamo voluto avvicinare anche questo territorio, questo comune di Sasso Corvaro Auditore perché siamo convinti che con le nostre, in base anche ai nostri principi ispiratori, di poter collaborare alla crescita di questo territorio, della sua popolazione. Siamo un po' in controtendenza rispetto al resto del sistema. Noi apriamo figliali perché vogliamo privilegiare la vicinanza con il territorio, vogliamo continuare a dialogare con le persone e vogliamo essere vicini sia alle istituzioni, alle persone e anche alle realtà produttive di questa zona. Facciamo parte di un gruppo bancario, che è il quarto gruppo a livello nazionale. Questo ci consente di essere comunque competitivi, di poter dare, offrire tutti i servizi alla nostra clientela, sia quelli basilari, quelli tradizionali, ma anche quelli più innovativi. Quindi siamo convinti che questo rapporto sarà di reciproco interesse, sia per la banca e sia per il territorio. Quindi auguro questa piena collaborazione con il nuovo territorio, il nuovo comune di Sasso Corvaro Auditore e anche i territori limitrofi. La mission della banca è continuare a privilegiare la vicinanza e il dialogo con le persone, le imprese e i soci, promuovendo lo sviluppo della cooperazione e la crescita responsabile e sostenibile dei territori in cui opera. Come consigliere di zona non posso che essere orgogliosa di una nuova apertura di questa banca, della nostra banca del territorio, in questo tessuto estremamente importante, sia per la presenza di grandi gruppi a livello nazionale e internazionali, ma soprattutto per un tessuto di media e piccole imprese. Ed è importante avere una banca del territorio vicina alle famiglie, vicina alle persone, una banca che va un po' in controtendenza e che deve rimanere tale, anche se con la fusione che abbiamo avuto siamo diventati un gruppo importante, vorremmo mantenere vivi quei valori che ci contraddistinguono e ci hanno sempre contraddistinto. Beh, vicino alle famiglie perché in un periodo così particolare che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, diamo un po' di speranza. Le famiglie in questo momento hanno proprio bisogno di essere, di avere qualcuno vicino per ripartire, per una ripartenza positiva e propositiva. Per cui noi crediamo, ci crediamo, ci abbiamo creduto, è un po' la nostra mission, per cui noi vorremmo mantenere questa vocazione che è tipica della nostra banca e vogliamo continuare a mantenerla. Un istituto bancario storico, ma dalla corazza moderna, lo vediamo anche in questa nuova filiale, completamente automizzata. Partiamo dallo sportello Bancomat. Sì, esatto, infatti abbiamo puntato molto, una banca diciamo proiettata verso il futuro, una scommessa, una sfida, quindi troverete una filiale veramente molto automatizzata, con casse automatiche che comunque prevedono anche l'assistenza del personale di filiale per l'utilizzo, con la speranza che sia proprio una marcia in più per il futuro e per il territorio sul quale abbiamo investito tanto. Anche dal punto di vista dei design, questa banca è differente, ma comunque è in grado di avvolgere, di accogliere i clienti. Sì, esatto, la differenza proprio è il motto delle BCC, una banca differente che punta molto all'accoglienza, quindi proprio mettere al proprio agio il cliente, che è sempre stato il nostro punto di forza, soprattutto in un territorio, ripeto, come questo, dove comunque sia investiamo tanto sull'industria, sulla vivacità imprenditoriale delle famiglie di tutto il territorio. Abbiamo visto come in questi anni, dal 2005, la BCC del Metaura abbia dato un supporto fondamentale alle tante aziende, piccole, medie o anche grandissime, presenti su questo territorio, ma per le famiglie, specie in questo periodo, cosa c'è? Troverete tantissime agevolazioni, da conti correnti con condizioni agevolate, piccole remunerazioni del credito, perché una delle particolarità fondamentali del credito cooperativo è proprio quello che noi, l'utile, lo rinvestiamo in termini di agevolazioni per la nostra clientela. Quindi dal 6 dicembre saremo qui e vi aspettiamo. Commercialmente, per i comuni di Sassocrovara Auditore, c'è una nuova piazza dove troviamo diversi negozi, soprattutto una banca che è vicina alle famiglie e alle aziende. Sì, sono orgoglioso, fiero e contento di poter inaugurare questo nuovo centro commerciale qui a Mercatale di Sassocrovara Auditore. Posso dire finalmente, perché comunque i lavori sono stati tanti, però alla fine, grazie alla solidità e all'energia e alla tenacia della società ATM, il lavoro è andato a buon fine ed è stato terminato. Sono tante le attività che nasceranno in questo centro commerciale, a partire da un nuovo sportello bancario, l'ABCC. È molto importante questo servizio, anche perché ultimamente vediamo che nei comuni, anche limitrofi, e nei territori vicini a noi, piuttosto che gli sportelli stanno riducendo e tagliando i servizi. Quindi avere la possibilità, l'opportunità di avere un nuovo sportello qui per noi è molto importante, per essere sempre vicini ai nostri cittadini. Io devo ringraziare la società ATM per il lavoro che hanno portato avanti e ringrazio tutte le persone e le attività che hanno voluto investire in questo nuovo centro commerciale, nelle ex-co, perché per noi è veramente importante trovare ancora chi crede nell'attività commerciale nel nostro territorio, perché investire su questo territorio vuol dire amarlo contemporaneamente. Quindi grazie a tutti voi per l'investimento e grazie ancora a tutti per questo bellissimo copolavoro, perché al di là dell'economia nuova che si andrà a creare, questo è stato un progetto di riqualificazione per il nostro paese. Quindi grazie veramente di cuore a tutti. In qualità di cooperativa, la banca privilegia l'operatività verso i soci, pertanto i clienti, diventando anche soci, potranno beneficiare di numerosi vantaggi e prodotti dedicati, come le bonus bebè per i nuovi nati, le borse di studio che premino il valore allo studio a partire dal diploma di scuola media inferiore e il prestito scuola a tasso zero e il mutuo campus.